Fumo Bianco che ha contribuito in primissima persona anche all'organizzazione del festival Noti Magiche di Mogliano che comincerà se non erro il 21 giugno e durerà quasi un mese fino al 19 luglio. Esatto, esatto. Il festival di quest'anno come dicevo è la seconda edizione curata da Fumo Bianco ed è un po' un esperimento se vogliamo quello che noi facciamo quest'anno perché di base abbiamo creato cinque serate che sono cinque serate a tema che come posso dire non vogliamo creare la solita rassegna teatrale, il solito festival teatrale per cui creiamo una raccolta di spettacoli che poi mostriamo al nostro pubblico, ci saranno anche gli spettacoli però quello che abbiamo cercato di creare noi è qualcosa di un po' diverso cioè quello di creare cinque serate a tema che abbiano un tema specifico e che diano tutto un contesto quindi non regaliamo semplicemente lo spettacolo, noi regaliamo una serata, un ricordo, un bel momento da condividere con le persone con cui si sta bene, per stare in allegria, è una rassegna che è tutta all'insegna, tra un po' un gioco di parole, comunque della leggerezza per cui noi facciamo spettacoli divertenti che non vogliono essere però scontati e che non vogliono essere banali, nel senso non cerchiamo la comicità fino a se stessa, cerchiamo più che altro la risata che però porta ad una riflessione, questo è sempre stato un po' un nostro obiettivo come compagnia, quindi di divertire, di dare leggerezza ma allo stesso tempo di lasciare qualcosa al nostro pubblico, un pensiero. La diversità qual è? Che abbiamo queste cinque serate a tema che sono il 21 giugno Lume di Candela, la serata si svolgerà, abbiamo due location diverse in questo festival, uno che è il Parco della della Cultura Carregaro-Negrin, che forse i moglianesi conoscono come Villa Longobardi, che è stato restaurato, è famosissimo, meraviglioso, un giardino bellissimo, che adesso il comune tra l'altro ha preso in mano facendo un'operazione, a mio modo di vedere, davvero molto raffinata perché ha sistemato il giardino in un modo spettacolare e sta cercando di rivalutare questa zona, questo parco che è nel cuore poi di Mogliano Veneto e questo lo sottolineo, c'è tantissimo parcheggio. Quindi alcune delle serate si terranno nel Parco della Cultura, nel nuovo Parco della Cultura di Mogliano Veneto e qualcun'altra se non era la Filanda Motta di Campocroce. Esatto, la Filanda Motta che è un po' la sede storica di questo festival che ha iniziato tema cultura ormai dieci anni fa. E quindi noi apriamo proprio al Parco della Cultura il 21 giugno con la serata Lume di Candela. Questo cosa significa? Perché vi spiego solo su questa serata il tema, poi capite che è declinabile quello che io vi dico in tutte le serate. Perché ogni serata si compone di due momenti sostanzialmente. Il momento dell'accoglienza al nostro pubblico, che quest'anno viene accolto con una pericena. Di solito noi friviamo un aperitivo, un'ombretta, invece quest'anno abbiamo un aperitivo molto molto ricco, grazie ai nostri sponsor e che approfitto per ringraziare, che sono soprattutto Nonno Andrea, il Panificio Casellato, la Salomeria Eustachio, che ci danno quindi dei prodotti meravigliosi, di grandissima qualità e quindi abbiamo un aperitivo ricchissimo perché ci sono affettati, ci sono le salsine, c'è il pane cresco e poi ovviamente ci saranno anche altre cose che noi integreremo all'interno del nostro aperitivo. E poi c'è da bere, quindi c'è il prosecco di Col Sandago, la birra di Teresianer, quindi prodotti di altissima qualità che vogliono soddisfare un pochino tutti. Quindi ancora una volta la cultura si unisce all'enogastronomia, che è cultura a sua volta peraltro. Eh sì, eh sì. E poi c'è una cosa molto importante che secondo me lega questi due settori, e cioè il fatto della condivisione e della convivialità. Eh cioè sono due arti che creano l'espediente per stare insieme, per stare insieme bene e in modo qualitativo e per passare delle serate magari anche diverse, sperimentando sapori, sperimentando spettacoli, sperimentando stili che magari non si era pensati di vedere. E quindi in questa serata noi abbiamo più di mille candele che illumineranno il parco. Cerchiamo di utilizzare quasi esclusivamente le luci delle candele. La platea sarà divisa un po' in grandi tovaglie da picnic che saranno direttamente allestite sul prato, con cuscini, con dei tavolini, con dei punti d'appoggio. E poi ci saranno anche eh un plateatico diciamo più classico e quindi i tavolini con le sedie perché ovviamente pensiamo all'esigenza di tutti, cioè non tutti possono rimanere magari per un'ora seduti per terra. Però noi eh come posso dire invitiamo il nostro pubblico per sfruttare a pieno l'esperienza di stare seduto sui nostri eh sulle nostre tovaglie da picnic. E poi eh ad animare la serata durante l'aperitivo ci sarà musica dal vivo eseguita da Davide Paladin che è un gravissimo eh musicista jazz che suona la chitarra meravigliosamente. E poi in prima serata ci sarà Giacomo Vianello che è uno del che fa parte della compagnia Fumo Bianco e che quindi farà un pochino gli onori di casa eh e sarà in scena con Linda Pagni che eh è un'attrice eh è stata anche danzatrice, è una speaker radiofonica eh e che sarà in scena con noi proprio questa prima serata in cui faremo un testo che si intitola D'amore divino. Quindi è un testo comico, è diverente che parla d'amore e che parla di romanticismo eh cercando di prendere un po' tutti gli aspetti di una relazione. Quindi non soltanto la parte romantica meravigliosa ma anche gli aspetti un po' più spinosi sempre in chiave comica ovviamente. E questo è il 21 giugno. Il costo è 12 euro. Quindi con 12 euro avete una serata meravigliosa che inizia dalle ore 20 con uno spettacolo che inizia alle 21, dura circa un'oretta lo spettacolo eh e tutto l'aperitivo e l'apericena.